Sono Paolo Rumiz, viaggiatore di lungo corso, uno che non sa distinguere tra scrittura e cammino. Centinaia di strade percorse e molte più parole scritte per raccontarle, alla scoperta di un paese nascosto sotto gli occhi di tutti. E un problema di rapporto tra gli italiani e l'Italia. Un viaggio a passi lenti lungo la spina dorsale dello stivale. Roma deve tutto all'appennino, non viceversa. Per scorgere un futuro che non rinnega le proprie radici. Io qui ci vivo bene. Per i viaggi di Rumiz, ritorno sui monti naviganti. In onda sulla F è disponibile on demand.